Buona domenica a tutti, allora, allora, è vero la barba non l'ho fatta, non c'è voglia, togliamo gli occhiali. Allora, io volevo così dire un argomento, perché penso questo, che è il volersi bene, la cosa più bella del mondo, dire un ti voglio bene, che sia in amicizia, che sia tra marito e moglie, che sia tra fidanzato e fidanzata, perché un voler bene, bello, volersi bene, ti voglio bene, una bella parola, una bella frase, perché, e penso che, certe volte non lo si dice tanto, perché uno dice, magari lo dico a un'amica, poi può pensare male, lo dico a un'amica, magari può pensare male, o magari che dice, oh, magari pensa che io ci sto provando con quella persona, no, secondo me, solo dire non ti voglio bene, ci vedo niente di male, perché può essere veramente di amicizia, anche, comunque oggi, bella giornata di sole, fa caldo, e con questo io vi voglio augurare una buona giornata, e passatevela bene, ciao, e cerchiamo tutti di volerci più bene, ciao.